Quello che trovo è che un primo obiettivo che abbiamo centrato e che rivendico con orgoglio è proprio aver ricreato questa circolazione delle esperienze di ricerca, soprattutto aver creato dei momenti in cui i giovani ci raccontano i loro percorsi di ricerca. L'altro giorno sono stato davvero ad ascoltare dei panel in cui ci sono dei temi innovativi nella ricerca fatti dai più giovani che mi hanno molto colpito. Un'area nuova, un'area fresca nell'associazione che mi sembra sia uno degli obiettivi raggiunti da Sise. Se ripenso alla mia esperienza personale, al mio percorso degli studi, io credo che aver incrociato all'epoca delle dimensioni così partecipate, associative in cui fosse possibile incontrarmi con gli allora giovani della mia generazione, penso che sarebbe stato di molto aiuto, di grande aiuto per la mia maturazione scientifico professionale, che naturalmente è avvenuta all'interno dei network di ricerca con cui mi sono incrociato. Ma quello che trovo straordinario dell'esperienza che stiamo facendo in Sise, che soprattutto per i più giovani, è la contaminazione. Prima era molto più facile rimanere dentro lo stesso circuito di ricerca, con gli stessi riferimenti culturali, scientifici, accademici. Qui invece abbiamo questa contaminazione che io trovo molto utile. Il secondo era quello della rappresentanza politica. Io credo che tutti noi abbiamo la consapevolezza che il mondo dell'accademia, il modo in cui viene valutato la ricerca scientifica, sia in una fase di grande trasformazione, che ci sia bisogno di una voce critica, riflessiva, ma anche, come dire, costruttiva. E questo è un altro degli obiettivi che si era posto alla nostra associazione, come dirò oggi all'Assemblea dei Soci, credo che su questo terreno possiamo davvero incidere. Una buona associazione culturale, scientifica, accademica deve essere anche in grado di porre al centro dell'agenda pubblica i temi su cui fa in maniera efficace ricerca. Sono ottimista su questo terreno, abbastanza. Noi abbiamo appena finito e abbiamo pubblicato con il murino una grande ricerca sulla terza missione degli accademici italiani. e mi dà l'idea che c'è un terreno fertile. L'Accademia, semmai è stata, diciamo, calzante, la metafora della Torre d'Avorio per gli accademici italiani, oggi non lo è più. Facciamo tantissima terza missione in forme plurali. La sociologia economica è già dentro questo processo. Dobbiamo rinforzare, mettere a sistema, rendere ancora più visibile quello che già stiamo facendo. Grazie. Grazie. Grazie.